Non mi sembra questo dramma, mi sembra molto più un dramma che sia rimasto Speranza alla salute, Franceschini alla cultura e alla morgesia agli interni, molto molto più grave dell'avvocato di Berlusconi. Fanno benissimo, fanno benissimo, San Marino è indipendente e come tutti i paesi indipendenti che non devono dare conto all'Europa fanno il cazzo che vogliono e fanno molto prima. No, le questioni con i vaccini e con le case farmaceutiche sono solo ed esclusivamente questioni di soldi, di spartizione di potere e di spartizione di danaro, della salute nostra di cittadini non interessa niente a nessuno. Una settimana ha cominciato con un lunedì speciale, un lunedì sul set di questo film meraviglioso che mi sta dando delle soddisfazioni incredibili, oggi ho girato delle scene di una bellezza ragazzi a Palazzo Farnese a Roma, una roba fantastica. Cerco di parlare di ciò che conosco e quando non conosco qualcosa cerco di documentarmi, Armani, semplicemente questo, nel frattempo ti ringrazio infinitamente. Armani è uno stile di vita, Armani è un modus vivendi, altro che solo vestiti. È una cosa molto profonda per chi la conosce bene, per chi la guarda da fuori può essere solo moda, ma va bene anche così. Amica mia, hai partorito in piena pandemia da sola, un anno ad aprile, ti abbraccio forte, un bacio alla piccola. Nessuno, nessuno ti darà indietro questo anno perso e nessuno ti darà anche i prossimi che perderemo e che ci faranno perdere, perché perderemo anche i prossimi ragazzi. Preparatevi, perché non è finita qui. Sì, io la trovo brava. Bravissima è Giuliana Loyodice, bravissima è Giulia Lazzarini, so come dire. Bravissima è Elena Sofia Ricci, Serena Rossi è una brava artista. No, un inetto non può, mi dispiace. Per fare business online ci vogliono le palle, un inetto non è in grado. La gente parla senza conoscere la storia, parla per sentito dire, parla per quello che sente nei Tg e nelle trasmissioni generaliste. La gente parla senza sapere niente, parla perché si è tolta la mascherina e quindi vuole buttare un po' d'aria fuori. Conte ha fatto dei danni a questo paese insieme a Casalino e in company, che penso veramente nella nostra storia poche volte abbiamo visto uno sfaccelo simile. E senza ombra di dubbio il degno, il degno diciamo capo di un partito che ha deluso su tutto, che si è rimangiato tutto, che è diventato un'altra cosa. E lui è il degno rappresentante di quella roba. Ma anche questa cosa che in America ci sono stati migliori, ma non è affatto vero. Dovete sempre fare il confronto col numero di abitanti. Quindi non è proprio affatto vero che in America ci sono stati chissà quanti morti in più di... Abbiamo in proporzione, abbiamo avuti molti di più noi. Quindi sono stronzate. Per di più in America vivono semiliberamente, praticamente un po' dovunque. Qualche piccolissima restrizione solo dove ci sono focolari. Questa è l'Italia. Casalino in tv a presentare il libro e Conte capo di un partito e alle università a fare l'elezione magistralis. In un paese normale, arrestati tutti e due, ma senza perdere tempo. Il professor Stramezzi è uno dei tantissimi che dice che di Covid non si muore. Non è mica l'unico che dice che ci sono le cure, che adesso che hanno capito bene come fare bisogna intervenire subito. Non lo so, ognuno agisse secondo la propria coscienza. Io non giudico proprio nessuno. Sono sempre dalla parte dell'impresa e sono sempre dalla parte dei ristoratori e degli imprenditori che hanno subito l'impossibile da questa situazione di merda. In amore non vince chi fugge. In amore non vince chi se ne frega. In amore non vince nessuno. Mai. Io invece guarderò Sanremo e poi, anche perché le repliche della mia trasmissione vanno in onda tardissimo, quindi Sanremo sarà finito a quell'ora, invece io lo guarderò perché voglio proprio vedere cosa hanno preparato. Mi aspetto tanto. Il tunnel è ancora molto lungo, vi conviene arredarlo. Ero a Roma a girare un film importante. Grazie mille, grazie. Grazie, grazie mille. Sono molto contento che ti sia piaciuto, grazie. Non esistono traguardi che non dipendono da noi stessi, non esistono. Tutti i traguardi dipendono da noi stessi. Dobbiamo volerlo, dobbiamo essere perseveranti e ci dobbiamo credere fino in fondo. Grazie.